Riccardo, Tocco, due Riccardo a giocarsi successo, guardate lì sono uno alla ruota nell'altro il corridore Lombardo e il corridore Friulano, li vediamo molto bene su quel tratto di rettilineo su Prato Piazione per chi ora passa Tofful con la sua maglia inconfondibile arancione nelle pedale manzanese ci prova, ovviamente si sente più che mai l'aria di casa quindi ci tiene non molto, moltissimo a provare ad alzare le braccia al cielo al parco del rivelino di Osopo Attenzione Continuiamo a tenerli d'occhio Guardate, attenzione, è provato per un attimo, serio L'uomo del team serio a superarlo, sono affiaccati e attenzione È una bella lotta davvero, guardateli là Adesso Ricci mette il turbo, guarda Ci siamo quasi, è Dai Ricci, prima della curva Dai Ricci Dai Ricci Dai Ricci Bravo Riccardo Longo, che conquista Grazie a tutti